Buongiorno, siamo arrivati alla ventiseiesima puntata della nostra serie e all'anno 1925. In quell'anno ormai si erano capite alcune cose delle particelle, in particolare, seguendo il ragionamento e l'idea fantastica di De Broglie, si era capito che le particelle potevano comportarsi come onde e questo poteva spiegare perché le orbite atomiche erano quantizzate. Ma c'è un'altra conseguenza importante riguardo a questa idea, è il fatto che se le particelle sono pensate come onde, allora quando passano una doppia fenditura dovrebbero mostrare come fanno i fotoni le frange di interferenza. Qui in questo disegno vedete il militare che spara dei proiettili attraverso due feritoi in un muro e quello che si vede è che secondo la fisica classica si producono due file di incidenza dei proiettili quando vanno a sbattere contro il muro. Invece in realtà quando sparate degli elettroni, per esempio, quello che succede è che fate delle frange di interferenza e tra l'altro la frangia più luminosa è quella in mezzo alle due fenditure dove in realtà classicamente ci dovrebbero essere zero elettroni, proprio come fanno i fotoni. Questa è stata una prova fantastica del fatto che anche le particelle si possono comportare come onde. Notate anche un'altra cosa, come adesso si può provare con gli esperimenti, abbiamo che la formazione di queste frange di interferenza avviene anche sparando un elettrone alla volta e quindi è proprio l'elettrone stesso che si comporta come un'onda e interagisce con se stesso. Non è un elettrone che interagisce con un altro, ma un elettrone pensato come onda che interagisce con se stessa. E questo cambia tutto perché se un elettrone interagisce con se stesso, con due parti della stessa onda, immediatamente mi viene da dire beh ma l'elettrone dov'è? se può sparpagliarsi in questo mare ondoso. Non c'è più la nozione di traiettoria e questa è la nuova prospettiva che si apre proprio in quegli anni passando dallo studio dell'atomo a uno studio più profondo di che cosa sono le particelle e quindi che cosa sono gli atomi, non solo come si comportano e quindi si apre la finestra sui pensieri di che cos'è la realtà e perché nel mondo microscopico la realtà ha poco a che fare con quello che a noi sembra, ha poco a che fare con a come appare la realtà. E uno degli eroi di questa storia nasce nel 5 dicembre 1901 in cui nasceva un altro genio che era Walt Disney, il papà di Topolino, ma l'altro, quello che interessa a noi, è Werner Eisenberg che è proprio nato alla fine del 1901 e morirà nel 1976 e va a scuola, all'università, a Monaco dove incontra un personaggio che abbiamo già conosciuto nella puntata precedente che era Wolfgang Pauli che è di un anno più vecchio. Quindi vanno alla stessa scuola anche se non sono in classe insieme, sono due geni assoluti e come vedete hanno fatto le loro cose, come vedremo, da giovanissimi. Quello che succede è che dopo aver partecipato a varie conferenze e incontri con i grandi guru del tempo, Max Born, Pauli stesso, Sommerfer che era un suo insegnante a Monaco e il più grande guru di tutti che era Niels Bohr, Eisenberg comincia a pensare a questi problemi fondamentali della fisica, ma nel giugno del 1905-25 viene colpito da un grande raffreddore da fieno. E allora cosa fa? E allora parte, chiede un permesso di due settimane e va in un'isola sperduta in mezzo al mare che si chiama Elgoland, da cui il famoso titolo il titolo del famoso libro di Carlo Rovelli. Questa isola, vedete, è un pezzettino, un fazzoletto di terra di un poco più di un chilometro quadrato, ma è interessante perché lì non ci sono alberi. Se non ci sono alberi non c'è polline e quindi Eisenberg può avere un po' di sollievi. Infatti c'era un alberghetto che era gestito da una signora che quando viene Eisenberg per la prima volta per prendere possesso della sua stanza crede che Eisenberg sia stato picchiato malamente da qualcuno perché aveva la faccia completamente tomefatta. Però passano poche ore e Eisenberg si rimette completamente e comincia a pensare a un modo per descrivere i salti quantici degli elettroni quando saltano da un'orbita a un'altra. E il pensiero sottostante di Eisenberg è che non si deve pensare all'elettrone come qualche cosa di fisico con una sua traiettoria. No, la traiettoria esiste soltanto per le cose macroscopiche, ma le particelle si comportano in maniera diversa e non bisogna preoccuparsi di che cosa fa l'elettrone nel saltare da un'orbita a un'altra. Quello di cui bisogna preoccuparsi è descrivere lo stato che si può osservare. Quindi o l'elettrone sta in un'orbita o sta in un'altra, ma non si può sapere quello che succede in mezzo. Per fare questo lui costruisce un congegno matematico che è formato da una tabella di coefficienti e di numeri che va moltiplicata secondo delle regole che si inventa lui a Eisenberg con una colonna di altri numeri secondo delle regole precise. E facendo questo esercizio lui ricava esattamente i risultati osservativi di quello che si conosceva allora. Poi quando torna sul continente spiega quello che ha trovato a Born, che era uno dei suoi maestri di Gottinga, e Born gli spiega, ma Werner Eisenberg questo, quello che hai fatto, sono nient'altro che il calcolo matriciale. Quello che hai inventato, si sa da parecchio tempo in matematica, e sono le matrici. E comunque insieme a lui e a un altro collaboratore che si chiama Jordan, sviluppano questa sua idea e pubblicano un lavoro dietro l'altro, molto importante, che richiama l'attenzione dei grandi della fisica di quel tempo. Quindi richiamano l'attenzione di Pauli, che era un anno più vecchio, e soprattutto di un giovane inglese che si affaccerà alla ribalta della fisica quantistica di quegli anni, che si chiama Paul Odrien Maurice Dirac. E l'attenzione è anche di Bohr, da cui Werner andrà a lavorare nel seguito e comincerà un ventennio di sodalizio tra questi due grandi della fisica che sconvolgerà completamente il nostro modo di guardare alla realtà. E per questo Heisenberg prenderà il Nobel più o meno negli stessi anni di Dirac e di Pauli, mentre Born dovrà aspettare fino al 1954 con suo grande rammarico. Ricorderà sempre che era stato lui a dire a Heisenberg, ma guarda che queste sono matrici. Per il proseguio aspettiamo la prossima settimana quando si affaccerà alla ribalta un altro di questi giovani fisici eccezionali. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima.